Si è svolta presso i locali della data di Urbino messi a disposizione per le attività collaterali ad Expo 2015 la presentazione di due attività imprenditoriali proposte dal Comitato per l'imprenditoria femminile di Pesaro e Urbino, il rinascimento a tavola della imprenditrice Daniela Storoni che realizza prodotti alimentari di qualità secondo le antiche ricette locali e Un Paese Cento Storie, nato da un'idea di Cristina Ortolani e da lei diretto per la promozione dell'accoglienza tradizionale e della tipicità dei borghi del nostro entroterra. Che progetto è Un Paese Cento Storie se si può riassumere in poche battute? Dunque sono molto contenta di fare questa intervista qui davanti perché si può leggere le Marche a cena in famiglia che già è abbastanza riassuntivo il nostro claim, è un progetto per dirla molto molto in breve di turismo esperienziale che consente di entrare proprio nelle case, in questo caso delle persone della provincia di Pesaro Urbino, forse anche delle Marche perché ci stiamo un po' allargando, è nato nel 2005 a Belvedere Fogliense come un progetto spot nel senso che si pensava di inaugurare i restauri del paese e poi di finire lì, invece poi siamo andati avanti per dieci anni, in particolare negli ultimi due o tre anni questo progetto ha riscosso l'attenzione anche di operatori turistici di altre regioni, addirittura anche di altre nazioni, ma insomma non vogliamo allargarci così tanto. Siamo arrivati anche fino alla Sicilia, abbiamo avuto dei contatti con persone siciliane che vorrebbero esportare il format. Per dirla molto molto brevemente, tutto è incentrato intorno alla cena e in famiglia, cioè alcune persone di una serie di località aprono la propria casa e accolgono ospiti a cena, raccontando loro le storie del territorio attraverso il cibo. Questa signora che vedete qui, la Dirce, il nostro simbolo, il nostro mascot, ha sulla torta la vecchia rocca di Belvedere Fogliense distrutta, Belvedere Fogliense è una frazione di Tavulia dove il progetto è nato, distrutta ma che per noi rappresenta un po' tutti i borghi e i castelli della nostra provincia, ripeto, delle località che poi deriscono al progetto e l'idea è proprio questa, ti ospito a casa mia e ti do da mangiare la storia del mio territorio, infatti è su una torta. Il nostro slogan mutuato dalle parole bellissime di un teologo intellettuale brasiliano è un pasto e l'anima del cuoco fatta cibo, per dire che proprio c'è questa fortissima componente di accoglienza. Ovviamente le persone che arrivano da noi poi si fermano a dormire in agriturismi, fanno delle visite ad aziende agricole, fanno anche dei corsi di cucina con le signore del paese, insomma tutta una serie di attività, volte far capire veramente il nostro spirito, lo spirito di accoglienza delle nostre terre. Rinascimento a tavola racconta oltre che ha dei sapori anche delle storie, attraverso il cibo penso. Sì, certo, parte proprio da questo, cioè Rinascimento a tavola nasce in Urbino, l'azienda è un'azienda urbinate e il nome è un programma, quindi già dice di che cosa stiamo parlando, una capitale del Rinascimento, come quella di Urbino, e trae le sue ricette proprio dagli antichi ricettari del 1500. Io faccio ricerca e sperimentazione nella cucina antica da oltre 30 anni, portandola poi in organizzazione di banchetti, di feste, insomma con questo tema. Da qui l'idea appunto di far assaggiare questo Rinascimento, quindi di creare una linea di biscotti e salumi, quindi prodotti commercializzabili, perché non tutto si può commercializzare, traducendo il concetto di eccellenza che appartiene al Rinascimento in ogni forma d'arte, quindi utilizzando tutte quelle materie prime eccellenti, per noi oggi eccellenti, che mi permettono appunto di racchiudere questo concetto, quindi dalle farine biologiche macinate a pietra, di tipo 2, cioè quella farina che ha ancora il germe di grano, quindi una chicca quando la preparazione lo permette, mandole dei pressi di slow food, perché comunque slow food è sinonimo di eccellenza, quindi quando uso lo zafferano, uno zafferano dop della Piana di Navelli, i canditi vengono da diamante, quindi diciamo c'è un percorso attraverso tutta l'Italia, le eccellenze italiane e territoriali, quando questo lo permette il territorio, proprio come avveniva nelle corti rinascimentali. La produzione poi si allarga comunque anche a un gusto più vicino a noi, quindi dalla produzione della fine dell'Ottocento, primi Novecento della tradizione popolare. Ecco, nel Rinascimento la tavola non era solo uno sfamarsi, anzi era un momento in cui si mettevano in mostra, i nobili facevano vedere tutta la loro potenza e la loro sfarzosità. Certo, questo è il banchetto, era per il Signore la sua festa privata, il momento in cui dimostrava tutta la sua potenza e la sua grandezza. E questo avveniva sia con gli spettacoli che il Signore offriva, lo sfarzo degli allestimenti, ma anche tutte le portate, ciò che portava in tavola. Questo avviene da sempre, dal Medioevo, nel Rinascimento, pensate che si diceva allora lo stesso si portavano fragole e ciliegie in tempi non stagionali. E si diceva se hai destriero veloce, sacche pesante, puoi portare a tavola tutto ciò che vuoi. Ed è un po' un concetto che anche noi oggi abbiamo, no? Quando vogliamo onorare un ospite chiaramente portiamo tutto quello che di meglio abbiamo. La tavola sancisce sempre alleanze, matrimoni. E noi abbiamo continuato con i pranzi e le cene di lavoro, perché appunto la convivialità allenta le tensioni, crea sinergia, ci predispone meglio all'altro. L'incontro, presentato dalla Vice Presidente del Comitato, Sara Moratori, si è rivolto in particolare alla Delegazione Cinese, istituzionale e imprenditoriale di Shanghai, guidata dal Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale di Shanghai, invitata dall'azienda speciale camerale Aspin 2000, Terra di Rossini e Raffaerlo, nell'ambito del suo programma di sostegno all'internazionalizzazione dell'economia del territorio. Allora, la unione di intenti in questo momento è quanto mai foriera di buoni risultati, quindi questa delegazione viene a contatto con l'imprenditorial femminile del nostro territorio. Esattamente, oggi siamo appunto qua in questo magnifico scorcio dello spazio che ci hanno appunto destinato, che è la data di Urbino, come in qualità appunto di Vice Presidente del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio, abbiamo voluto raccontare la storia di due imprenditrici che portano avanti il valore e le tradizioni del nostro territorio, con grande forza ed energia. Abbiamo appunto presentato Daniela Storoni di Rinascimento a Tavola e Cristina Ortonali, un progetto interessantissimo anche questo, di Un Paese Centro Storie, proprio perché crediamo, come Comitato per l'imprenditoria femminile, che sostenere l'impegno e l'energia delle donne che fanno impresa, oggi come oggi, in un momento così particolare della nostra economia, come quasi un fiore all'occhiello, proprio perché sono sempre di più le imprese quelle che resistono, proprio in questa chiave. Quindi siamo veramente felici di essere qui oggi e di raccontare queste storie, perché sono storie che devono dare una forza, un'energia, un senso positivo, finalmente dopo tanto, tanto noir di questo periodo. e ringraziamo veramente la possibilità che ci hanno dato poi tutti, compresa la Camera di Commercio, per riuscire a portare avanti questa cosa. Allora, visto che l'imprenditoria maschile subisce, insomma, botte da orbi dalla crisi, quella femminile è l'unica che tiene, forse dovranno imparare qualcosa i maschietti dalle donne imprenditrici? Ma guarda, imparare, siamo sempre pronte a raccontare appunto le nostre vicissitudini, perché come c'è veramente, forse anche una grande energia, perché ci vuole un po' tutto, nell'imprenditoria femminile c'è una grande conciliazione, famiglia, lavoro, quindi anche veramente una forza, un'energia che spesso un uomo, ma senza nulla togliere appunto alle imprese maschili, è vissuto in maniera totalmente diversa. Questo fa sì che non è per nascondere un valore, una qualità, che forse noi donne, nei momenti proprio più critici, anche all'interno della nostra vita, del nostro quotidiano, riusciamo effettivamente a portare avanti. Ecco, tutto qua, insomma. Allora, la prima domanda che voglio rivolgergli è qual è la sua prima impressione in queste ore qui nella provincia di Pesaro Urbino? È una città bellissima, è molto antica, poi ci ha dato un'impressione molto profonda, quindi abbiamo passato solo due ore. Il tempo passa troppo veloce per noi. Ecco, l'altra domanda che voglio rivolgergli è, fa parte di una camera di commercio che annovera tantissime imprese, in loro c'è la consapevolezza di essere l'economia trainante al mondo in questo momento? Comunque, io credo che lo sviluppo economico di tutto il mondo dipende molto sulle attività dei nostri imprenditori, anche se adesso abbiamo subito delle impressioni economiche in tutto il mondo. Però io credo che con gli sforzi degli imprenditori avrà una crescita nell'economia mondiale. Quindi io oggi ho questo onore di partecipare a questo evento organizzato dal nostro comitato delle imprenditrici femminili del nostro camera di commercio. Io penso che questi due progetti, sia il rinascimento sul tavolo, sia questo un paese cento storia, potrebbe anche dare una sforza alla nostra economia. L'ultima cosa è il punto di unione tra l'economia occidentale e quella orientale. Comunque sì, ci sono qualche diversità, certamente. Per esempio, in Cina abbiamo avuto una base un po' inferiore, però con gli sforzi degli ultimi anni abbiamo avuto una crescita economica molto notevole. Adesso abbiamo già classificato come la quantità economica, classificato il numero due nel mondo. Però noi non siamo fra i primi nel mondo, certamente. Quindi con i nostri sforzi possiamo anche fare tanto nel futuro. Comunque per la Cina il sviluppo economico per noi è di prima importanza, solo che l'economia cresce, possiamo offrire al popolo cinese una vita più bella, più splendida. Allora, continua l'asse Pesero-Shangai. Insomma, sono veramente contenti. Li vediamo che la delegazione della Camera di Commercio ha trovato terreno fertile qui per portare avanti un proficuo lavoro. Questa è la seconda delegazione che noi ospitiamo di imprenditori e soggetti istituzionali di Shanghai. Fa parte di un programma su cui lavoriamo da tempo come Camera di Commercio e come ASPI 2000, cui seguiranno altre delegazioni. Fra un mesetto avremo qui circa una quarantina anche dei operatori della Russia. Questa delegazione è composta da soggetti particolarmente interessanti perché innanzitutto il capo delegazione è il segretario generale della Camera di Commercio di Shanghai, che è una delle Camere di Commercio più importanti in Cina e rappresenta anche un progetto che si chiama World Trade Center, che è un progetto di investimento nel settore immobiliare e che prevede la costruzione in futuro di abitazioni, ville, musei, case d'accoglienza di altissimo livello. Quindi loro sono qui perché interessati poi ad arredare queste strutture. Dall'altra parte ci sono imprenditori che lavorano per lo stesso gruppo, un grande gruppo che sta già da tempo, ma sta implementando una piattaforma di vendita di prodotti online. Perché è interessante entrare su questa piattaforma e che cosa cercano? È interessante perché loro... è la piattaforma della dogana di Shanghai e quindi chi entrerà a far parte di questa piattaforma avrà diverse facilitazioni e soprattutto non pagheranno darsi doganali perché la dogana verrà pagata dai consumatori finali. Avranno la possibilità le aziende di avere comunque un deposito in una free zone e inoltre l'opportunità per chi non lavora in Cina comunque di testare questo mercato. Ieri hanno incontrato diverse imprese del nostro territorio, presso la Camera di Commercio abbiamo fatto degli incontri B2B e loro erano particolarmente interessati al mobile arredo e anche alla cosmetica, tutti i prodotti, pelletteria, calzature e oggettistica anche. Quindi speriamo poi che questi incontri diano i loro frutti. Ecco, qui poi nella data di Urbino c'è anche un incontro con un'imprenditoria femminile che quindi si sposa l'utile al dilettevo. Sì, abbiamo voluto... la data è comunque un punto di riferimento per tutte le delegazioni estere che arriveranno e oggi in modo particolare c'è questo incontro particolarmente interessante è importante la presentazione di due progetti, rinascimento a tavola e un paese 100 storie e da parte del CIF che è il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Pesaro Urbino e di alcuni imprenditrici che appunto stanno realizzando questi progetti. A seguito di questo incontro la delegazione cinese avrà anche l'opportunità di degustare i prodotti legati alla tradizione rinascimentale. Continua il lavoro della Camera di Commercio per portare su un giusto sentiero le imprese marchigiane e pesaresi verso una ripresa. Dati però che sembrano essere incoraggianti. Ma sì, stamattina sono usciti i dati Istat relativi all'export nazionale, regionale e provinciale riferiti al 31 marzo 2015, quindi si tratta di un dato assolutamente parziale che deve essere preso con la dovuta considerazione nelle valutazioni che si devono fare. Il dato dice che l'export italiano è aumentato del 3,2% circa. Sono dati usciti pochi minuti fa, poche ore fa e quindi sono oggetto di attenzione proprio mentre stiamo parlando. Il dato regionale inaspettatamente fa segnare complessivamente una caduta perché si parla di un meno 6,7% rispetto al primo trimestre del 2014. Tutte le province sono in negativo. Il dato positivo che si equipara a quello italiano, 3,2% e 3,3% di aumento è quello della provincia di Pesaro Urbino. Si tratta di un dato molto parziale che deve essere appunto valutato per tale, ma è incoraggiante, segna una tenuta dei settori tradizionali, se non addirittura un piccolo avanzamento del mobile, della meccanica, dell'agroalimentare, anche su mercati alternativi al principale mercato di sbocco che è sempre stato la Russia. Come sapete è stata colpita da sanzioni pesantissime, quindi ci aspettavamo un dato negativo sulla Russia. Per fortuna c'è stata una ridistribuzione della capacità di export sull'Europa, sui mercati occidentali, in qualche piccola misura sulla Cina e sui mercati medio orientali. Sono dati che approfondiremo anche con riferimento ai singoli stati, ai singoli settori nei prossimi giorni e saremo in grado anche di diffondere una comunicazione più articolata. Queste sono le prime novità veramente di pochi minuti. Grazie. Grazie.